Allora siamo a Fisciano al locale Public House, qui c'è un cantante del gruppo, ora ci spiegherà un po' chi è questo JJ Keane. Come si chiama il gruppo? Come si chiama Dasty Ruff, Carmine Giordano al basso, Giuseppe Saniscardi a batteria, Stefano Nicandro al basso. Senti scusa, e JJ Keane come mai questa cover così particolare? E' un bluesman americano di Tulsa, è stato il mentore di Treppo il quale ha fatto la sua fortuna con i suoi brani, bellissima persona, ho visto, bellissimo. Ok, grazie a te che fai queste cover speciali. Cerchiamo di farlo conoscere. Grazie. Ciao. Un'intervista a volo, no? Quindi andate e vedete un po' anche voi chi era questo grande bluesman al quale si sono esperate parecchie persone. Io adoro il blues, quindi va bene. Io adoro il blues, quindi va bene. Senti, a me questa cosa Senti, a me questa cosa Senti, a me questa cosa